Degrado e generale insicurezza. Residenti e proprietari di immobili e terreni nella marina leccese di Torre Chianca, aderenti all'omonima associazione, scrivono una dettagliata lettera a prefetto questore e per conoscenza al comune di Lecce, lettera che sono pronti a trasformare in un esposto in procura. In qualità di autorità responsabili per la pubblica sicurezza, il presente esposto riguarda varie inadempienze e disfunzioni che hanno ricadute gravemente negative sulla vivibilità della nostra marina, scrivono. Dall'impianto fognario primario alla mancanza di segnaletica stradale alle barriere architettoniche, dall'assoluta mancanza di manutenzione e sicurezza in piazze e vie alla mancanza di interventi autoritari sui proprietari di terreni privati incolti, compresi alcuni che ricadono nel parco di Rauccio, dalla mancanza di interventi per la delimitazione del transito e della sosta di auto in via Idume su tutto il perimetro del fiume Idume e, sebbene dipenda dal consorzio di bonifica, sottolineano l'assoluta mancanza di interventi su tutti i canali ricadenti nella marina, con importanti problematiche igienico-sanitarie, mancanza del flusso idrico con conseguenti esondazioni dei canali. L'impianto fognario, un impianto primario che è stato terminato nel 2017 e che ancora non è stato collaudato. Abbiamo anche messo un altro punto che è quello per quanto riguarda un'area attrezzata, appaltata nel 2019 con fondi Cipe, dove praticamente non è stata né terminata da come è stata appaltata, in quanto il progetto risulta non eseguito. Abbiamo molteplici richieste in via formale e informale per quanto riguarda la segnaletica stradale, orizzontale e verticale, alcuni punti praticamente proprio assente. Poi abbiamo un campo sportivo, quello comunale, che è completamente devastato in un degrado, in mancanza di sicurezza, dove abbiamo più volte anche inviato delle nostre richieste mai ascoltate. L'assenza di qualunque tipo di manutenzione strade, marciapiedi, verde pubblico. E, non meno importante, la percezione di mancanza di sicurezza per assenza di servizi di pattuglia delle forze dell'ordine. Non vediamo mai, non vediamo assolutamente, nel periodo invernale soprattutto, non ci sono assolutamente, non vediamo dei pattugliamenti né da parte delle forze dell'ordine, tantomeno della polizia locale. Anche quella del 118, che è un problema abbastanza serio, che si registra puntualmente ogni anno d'estate, dove negli ultimi anni abbiamo avuto tre decessi per annegamento, che ormai siamo stanchi, non si può vivere, non possiamo parlare sempre di futuro e poi nel presente non abbiamo un minimo di interesse per la base, diciamo, della sicurezza. Ormai i cittadini sono veramente stanchi. Ormai i cittadini sono veramente stanchi.